Eccoci qui un'altra volta, San Siro, prima gara di ritorno, Milan PSG Siamo stati a Parigi due settimane fa e non è andata assolutamente bene Eramo lì con Sam che manda un grosso saluto, un grosso bocca al lupo per un buon recupero Questa partita sarà anche per te Sam Qui abbiamo lo stadio Quest'oggi siamo entrati anche in un'entrata un po' più VIP tra virgolette Perché è la prima volta che entravo appunto dai sotterranei Comunque passiamo alla partita, oggi i ragazzi devono vincere Anche perché se perdiamo, l'altra volta eravamo con mezzo piede fuori Stavolta siamo con tutti i piedi fuori secondo me Abbiamo un risultato solo utile questa sera, ovvero la vittoria Speriamo bene, sabato ho visto i ragazzi molto molto male Non ho fatto la post reaction della gara perché sono andato a letto a dormire Ero veramente disgustato da quello che avevo visto Spero di vedere tutt'altro oggi Detto questo, forza Milan Vediamo come entrano nei scaldamenti Se sono concentrati o meno Vai Mike, vai Mike, vai Mike Vai Mike Vai Mike Vai Mike Viva! 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 Grazie a tutti. 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 Sì. 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 Si. 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 ... 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